A Oristano è operativo l'ufficio interventi civili. L'arcivescovo di Oristano ha presentato la prima lettera pastorale. Previsti sgravitari per le associazioni. Meno di due anni alle prossime elezioni comunali di Oristano. Benvenuti. Sono 4.742 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale si registrano 134 nuovi casi, 116 rilevati attraverso attività di screening e 18 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 161 in tutto. In totale sono stati eseguiti 209.088 tamponi con un incremento di 2.555 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 133 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi con un più 4 rispetto al dato di ieri, mentre 23 con più 4 sono i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.413. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.989 pazienti guariti con più 37, più altri 23 guariti clinicamente. Sul territorio dei 4.742 casi positivi complessivamente accertati, 744 con un più 38 sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 523 con più 13 nel sud Sardegna, 368 con più 11 a Oristano, 703 con più 26 a Nuoro e 2.404 più 46 a Sassari. Intanto dall'ufficio stampa del Comune di Oristano informano che sono tre i casi di positività al Covid-19 accertati oggi in città. Si tratta di familiari di un soggetto trovato positivo al tampone già da qualche giorno. I tre soggetti, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie dell'AS di Oristano al sindaco Andrea Luzzu, sono asintomatici e in isolamento domiciliare. Cambiamo argomento. A Oristano è attivo l'ufficio interventi civili della Procura. Maggiori dettagli nel servizio. Una giustizia più funzionante, integrata, digitale e vicina ai cittadini. Giovedì 8 ottobre è stato infatti sottoscritto alla presenza dei rappresentanti della provincia d'Oristano e dei comuni di Cabras, Milis, Oristano, Santa Giusta, Tramazza, Zediani e dell'ATS AS5 e il protocollo di intesa per l'attivazione di una sede in città dell'ufficio interventi civili della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, che consentirà una maggiore vicinanza della Procura ai civili, ai servizi sociali, sanitaria e alle scuole del territorio di Oristano. Lui ci interviene sulle situazioni di disagio familiare che espongono i minori a condizioni di vita pregiudizievoli del loro sviluppo e sulle situazioni di presunto abuso e maltrattamento. L'importante accordo, presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni a Nacau in occasione dell'Assemblea dei Sindaci del Plus del distretto di Oristano, è stato firmato oltre che dallo stesso Procuratore, dal primo cittadino di Oristano in qualità di Presidente del Plus Andrea Luzzo e dall'amministratore straordinario della provincia Massimo Torrente. Gli operatori dell'UICE saranno presenti nell'ufficio di Via Mattei per tre giorni alla settimana per un totale di 15 ore. L'Arcivescovo di Oristano questa mattina ha presentato la prima lettera pastorale. Sentiamo. L'Arcivescovo di Oristano Monsignor Roberto Carboni ha presentato la prima lettera pastorale dal titolo Vogliamo Vedere Gesù. Monsignor Carboni offre diversi motivi di riflessione per questo faticoso riavvio della vita comunitaria ecclesiale, carico di incognite, di prudenza che rischia di sforare nella paura, di programmi e progetti che devono dotarsi di coraggio e creatività. Padre Roberto fa notare che dobbiamo essere animati non dal desiderio e assilo di ritornare al più presto a come eravamo prima della tempesta pandemica. Quanto abbiamo vissuto in questo tempo deve farci recuperare l'essenziale e questo comporta una formulazione profondamente innovativa dei nostri programmi. È stato detto con grande autorevolezza anche dal Santo Padre, il danno maggiore dato da questa crisi sarebbe il fatto che essa non ci ha insegnato niente e appunto nutrissimo solo il desiderio di ripristinare l'assetto tradizionale della nostra pastorale. La lettera alla comunità, come l'ha definita lo stesso Monsignor Carboni, prende spunto dalla frase contenuta nel Vangelo di Giovanni, con la richiesta che alcuni greci rivolgono agli apostoli Filippo e Andrea. Vogliamo vedere Gesù. Non una visione solo letterale del verbo vedere, ma il bisogno di una conoscenza e ascolto della parola attraverso la famiglia, la catechesi per gli adulti e la collaborazione dei laici. Per l'occasione l'arcivescovo Padre Roberto ha presentato il nuovo direttore del settimanale L'Arborense. Si tratta di Mauro De Sì, che coprirà pure il ruolo di direttore dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi oristanese. A Mauro De Sì vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. La conferenza stampa integrale andrà in onda al termine delle nostre edizioni del Tg oristanese. Auristano gli sgravi fino a 300 euro sulla Tari si applicano anche alle associazioni. Vediamo. Auristano gli sgravi fino a 300 euro sulla tassa dei rifiuti 2020 si applicheranno anche alle associazioni culturali di promozione sociale, di volontariato, sportive e dilettantistiche nonché agli enti del terzo settore. Lo ha chiarito la giunta comunale precisando il campo di applicazione del bando Auristano per le imprese. L'assessore alle attività produttive Maria Bonaria Zeda ha precisato che le associazioni e gli enti interessati che tra il 5 marzo e il 3 maggio abbiano sospeso totalmente o parzialmente l'attività per effetto dei diversi decreti ministeriali che hanno dettato le norme durante l'epidemia da Covid-19 potranno presentare domanda entro il termine delle ore 24 del 31 ottobre con le medesime modalità stabilite per le imprese e i liberi professionisti. La sabbia rubata 30 anni fa torna nella spiaggia di Isarutas. Vediamo. 30 anni fa aveva prelevato sabbie e conchiglie dalla spiaggia di Isarutas. Ora, grazie alla collaborazione dell'associazione Sardegna rubata e depredata, le ha restituite alla Sardegna. La storia è raccontata in un post nella pagina Facebook della medesima associazione e ha per protagonista una ragazza toscana di 37 anni di nome Elena. Oggi abbiamo ricevuto un altro pacco, un maxipacco di 15 chili che giunge dalla Toscana, si legge nel post, un regalo accompagnato da una lunga missiva. Elena ha vissuto la Sardegna senza ancora il turismo di massa, ricorda tutto, i posti visitati, nei mesi scorsi il ritrovamento della sabbia. Recentemente svuotando la cantina di famiglia ho trovato delle vecchie casse con i miei giochi del mare. Frugando tra quei ricordi ho avuto un colpo al cuore, bottiglie ormai sbiaditte, con dentro la sabbia portata via da una bambina, forse per ricordo, forse per non staccarsi troppo da quel luogo del cuore. Una cosa mi è stata chiara sin da subito, continua la lettera, questa sabbia deve tornare al suo posto a qualsiasi costo. Le cose belle non accadono mai per caso e spesso invoiano altre persone a fare altrettanto, ha dichiarato Franco Murru, presidente dell'associazione. È un'altra goccia insignificante in mezzo al mare, ma è l'ennesimo segnale incoraggiante. Da oggi e sino al 15 novembre è possibile presentare le domande per richiedere il bonus matrimonio. Istituito con la legge regionale 22-2020, il bonus si concretizza in un sostegno economico finalizzato a incentivare i matrimoni e le unioni civili celebrati in Sardegna, ha fermato l'assessore ai servizi sociali del comune di Odistano, Carmen Murru. L'intervento si inquadra nell'ambito delle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna, a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed è finalizzato ad incentivare i matrimoni e le unioni civili celebrati nel territorio della regione tramite un contributo erogato fino alla concorrenza di 4 mila euro per cerimonia. Cambiamo argomento, nello spazio giovani di Sarodia sono iniziati i lavori per la costruzione dello skate park. Vediamo. Sono partiti in questi giorni i lavori di realizzazione dello skate park presso lo spazio giovane di Sarodia. La costruzione dell'impianto era uno degli impegni assunti in campagna elettorale e per questo motivo è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021, ha dichiarato il sindaco Andrea Luzzo. Il progetto potrà essere concretizzato grazie al determinante contributo della Fondazione di Sardegna che tante volte in questi anni ha sostenuto lo sforzo dell'amministrazione a favore dello sport e dei giovani. Per l'assessore lavori pubblici Francesco Pinna l'impianto moderno e innovativo saprà incontrare il favore dei giovani e non solo di quelli oristanesi. Una volta conclusi i lavori il nuovo impianto assolverà molteplici funzioni. Oltre a favore l'attività motoria offrirà ai ragazzi la possibilità di divertirsi senza danneggiare elementi di arredo urbano come scalinate, corrimano e marciapiedi e senza mettere a rischio la propria e altrui incolumità. L'assessore allo sport e alle politiche giovanili, Maria Bonaria Zeda, ha effettuato un sopralluogo del nuovo skate per verificare l'avvio del cantiere. Guardiamo a quest'opera con grande fiducia e soddisfazione. I giovani oristanesi la tendono con impazienza e la loro attesa è destinata a durare ancora poco. Entro pochi mesi potranno utilizzare una struttura moderna e funzionale. La sentenza del TAR Sardegna è basata sulla mancata acquisizione del parede dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale che seppure sia obbligatorio non è vincolante. Peraltro il parere era stato puntualmente e tempestivamente richiesto dall'assessorato lo scorso 21 settembre, subito dopo i censimenti. Così l'assessore regionale della difesa dell'ambiente Gianni Lampis ha commentato la sentenza del TAR che ha annullato il decreto regionale del 28 settembre nella parte che regolamentava il prelievo venatorio della pernice sarda e della lepre sarda. Voltiamo ancora pagina, quarto reggimento a cavallo dell'arma dei carabinieri al via la selezione di puledri. Vediamo. Nei giorni scorsi una delegazione del quarto reggimento a cavallo dell'arma dei carabinieri ha visitato alcuni allevamenti presenti nella provincia d'Uristano per la selezione di giovani quadrupedi che andranno così a sostituire i puledri ormai avanti negli anni. Si conferma così una tradizione che da 200 anni connette la benemerita alla Sardegna. Nel 1832 i carabinieri nell'isola assunsero per un breve arco temporale la denominazione di cavalleggeri di Sardegna. Il reggimento carabinieri è infatti l'ultimo interamente montato dalle forze armate italiane ed è impiegato tutt'oggi in attività di pattuglie per lustrazione in zone impervie del territorio nazionale, fornisce supporto ai reparti impegnati in ordine pubblico e nelle operazioni di soccorso nei territori colpiti da calamità. È altresì conosciuto e ammirato per il carosello storico, saggio di scuola di equitazione, sintesi dell'alto livello di addestramento raggiunto dai cavalieri dell'arma. 9 milioni e 800 mila euro per finanziare interventi di supporto all'istruzione per gli studenti con disabilità come l'assistenza scolastica, il trasporto, l'acquisto di attrezzature. Li ha destinati a questo scopo la Giunta regionale che ha approvato le nuove linee guida per il diritto allo studio dei ragazzi diversamente abili nelle scuole dell'isola. Tutti gli studenti, a prescindere dalle loro condizioni psicofisiche, devono poter realizzare esperienza di crescita individuale e sociale, ha dichiarato il presidente Solinas. Ed è il nostro obiettivo primario garantire a tutti il diritto allo studio e abbattere ogni barriera che ostacoli l'accesso all'istruzione dei nostri ragazzi. I nuovi criteri tengono conto di tre parametri fondamentali, l'assistenza specialistica, il trasporto e i supporti didattici. Mancano 20 mesi all'elezione del nuovo sindaco di Odistano. Nonostante ciò c'è fretta di ultimare le opere. Vediamo il servizio di Paolo De Sogos. I mesi scivolano lenti ma inesorabili e alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e la elezione di un nuovo sindaco mancano giusto una ventina di mesi. Si dovrebbe quindi votare a giugno del 2022 dopo quelle del 2017 che portarono alla vittoria il centrodestra Andrea Luzzo che sconfisse Maria Obino del PD e l'accordata di centrosinistra. Si usciva da cinque anni di governo con targa di sinistra e Guido Tendas che tutto sommato aveva ben seminato e ingiunta oltre a qualche politicante di piccolo calibro era presente una pattuglia di tutto rispetto capaci professionalmente. Ora c'è fretta di chiudere il cerchio delle opere in corso in quelle da avviare e delle altre per le quali sono stati conferiti incarichi e sia in attesa di bandi, sottoscrizioni di atti, contratti e convenzioni. Un insieme per avviare il traguardo del 2022 in condizioni ottimali e presentare agli elettori un paniere composto da cose realizzate. Andrea Luzzo dovrà comunque attrezzarsi per arginare lo scontro con i sardisti del PD anche se potrà contare su Fratelli d'Italia, Riformatori, Forza Varis e Forza Italia come bandiera. I sindaci del Margine contro il servizio di igiene pubblica. E' più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago e che un operatore del servizio igiene e sanità di numero risponda al telefono. Con questa ironica citazione, Gian Pietro Arca, sindaco di Silanus, esprime la sua preoccupazione per non avere il necessario supporto proprio nel periodo in cui la pandemia di Covid-19 sembra andare incontro alla seconda ondata e anche a Silanus sono presenti un certo numero di positivi. Più avanti il sindaco scrive non possiamo più continuare a sopportare il sistema sanitario che invece di stare vicino con chi questo momento si trova a combattere contro il Covid-19 lo abbandona a se stesso dietro un continuo rimbalzo. La denuncia del primo cittadino di Silanus è rivolta al prefetto di Nuoro a cui chiede un intervento in merito ai gravi disagi che è sempre secondo il sindaco sono causate dalle mancanti comunicazioni del servizio. Arca prosegue riferendo che quando i cittadini non ricevono risposte si rivolgono giustamente agli amministratori comunali perché intercedano con chi di competenza per ottenere risposte, con evidente imbarazzo di questi ultimi. Ad esempio, riferisce ancora Arca, il ritardo con il quale arrivano i certificati di negatività necessari per ritornare al lavoro che vengono inviati solo dopo ripetute insistente. Il sindaco chiede al prefetto di verificare. Il momento storico, dice Gian Pietro Arca, sta facendo emergere in maniera sempre più marcata la criticità di un sistema sanitario che appare sempre più distante dal cittadino. Ad Arca fa ecco Antonio Succo, il sindaco di Macomèr, che definisce coraggioso l'intervento del sindaco di Silanus, che denuncia una situazione grave in un momento molto delicato dove gli amministratori locali e soprattutto i sindaci che hanno l'onere di essere autorità sanitaria del proprio comune sono privati di uno strumento essenziale per operare nell'ambito della sanità pubblica e nel contrasto al Covid-19. Il servizio di igiene pubblica del nostro distretto sanitario prosegue Succo in questo momento e oggettivamente inadeguato rispetto al momento che si sta vivendo e tanto i cittadini riferiscono di disagi e di servizi. Stiamo vivendo la seconda ondata Covid, che per noi è come se fosse la prima, senza un supporto istituzionale adeguato, nonostante la buona volontà di molti dipendenti ATS che cercano di supplire alle mancavolezze. Altri, dice ancora Succo, non erano preparati a questa emergenza. Intanto, mentre i contagi in Sardegna aumentano sempre di più, gli assembramenti, soprattutto di giovani, sembrano non avere termine. Sono aperte le iscrizioni della Scuola Civica di Musica per l'anno scolastico 2020-2021. I moduli per l'iscrizione sono disponibili presso la segreteria della scuola in Via Costa ad Oristano e possono essere ritirati lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 21.00 oppure possono essere scaricati dal sito www.scuolacivicamusicaoristano.it. L'inizio delle lezioni per il nuovo anno scolastico è previsto il 2 dicembre 2020. Il concerto di Gioe Perrino e la sua band in programma per sabato 10 ottobre a Sola Russa come evento collaterale delle terre di confine Film Festival è stato annullato a causa del preoccupante aggravarsi dell'emergenza sanitaria nell'Interland di Oristano. Era questa l'ultima notizia, ora vi lascio con la breve striscia informativa sui fatti nazionali più importanti in collaborazione con l'agenzia Italpress. Grazie per essere stati con noi. Grazie per essere stati con noi.